basta polemiche c'è stato in questi mesi un gruppo dirigente vicino a me a cominciare da orlando franceschini delia cuperlo zanda cuppi bettini de micheli o dati e chiara braga e tanti altri e tanti sindaci amministratori e dirigenti nei territori l'ho già detto ieri lo ha detto il segretario uscente del pd e presidente della regione nicola zingaretti a margine dell'inaugurazione del treno sanitario a termini ho fiducia che ci sarà la forza e l'autorevolezza per fare chiarezza dove io non sono riuscito e a rilanciare insieme un progetto per l'italia ha aggiunto il coordinamento dei sindaci del pd all'unanimità esprime grande preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare con le dimissioni di zingaretti chiediamo ora responsabilità e unità a tutto il gruppo dirigente come la nostra gente ci chiede ovunque le divisioni interne hanno troppo spesso portato alle dimissioni del segretario del nostro partito in 14 anni ben sette segretari e nei giorni scorsi più volte abbiamo chiesto a zingaretti di ripensarci questa la posizione dei primi cittadini dem riuniti ieri dal coordinatore dei sindaci pd matteo ricci ora occorre fare presto e ripartire subito confermando lo svolgimento dell'assemblea di domenica affermano i primi cittadini del pd i sindaci proseguono sono un'energia straordinaria per il pd e spesso hanno retto il partito e l'intero centro-sinistra nei territori abbiamo sempre vissuto con sofferenza un partito troppo basato sulle correnti interne e vogliamo essere protagonisti anche in questo passaggio così delicato con responsabilità e nell'interesse della nostra comunità c'è e c'è stata sottolineata anche da zingaretti una difficoltà culturale prima ancora che politica costruire a viversi in una cultura politica davvero democratica troppi rilevano ancora i sindaci del si vivono ancora dentro le fazioni e gli schemi del passato in questi anni i sindaci invece hanno cambiato pelle hanno assunto la vocazione maggioritaria per aprirsi e vincere perché chiudendosi avrebbero perso al pd serve una guida autorevole che ci consenta di preparare con forza le prossime elezioni amministrative e che rimetta subito al centro l'italia affrontando immediatamente i temi centrali e imprescindibili la campagna di vaccinazione la lotta al covid la crisi economica e sociale il piano nazionale di ripresa e resilienza con il recovery plan occorre inoltre ridefinire presto il nostro profilo politico la nostra identità la nostra missione nel governo draghi così come il sistema di alleanze in vista delle amministrative è altresì evidente concludono i sindaci del pd che è fondamentale svolgere un congresso vero di rilancio strategico appena ci saranno le condizioni politiche di sicurezza sanitaria